È possibile prevedere in anticipo l'arrivo di uno tsunami? La risposta arriva dai laboratori dell'Università di Roma La Sapienza in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory della NASA, dando vita a Varian, un algoritmo che utilizza le osservazioni satellitari per rivelare in tempo reale l'arrivo di tsunami. Il nuovo approccio utilizza i dati GPS per misurare le perturbazioni atmosferiche prodotte dai movimenti delle onde del mare. Questo sistema, secondo i ricercatori, potrebbe essere utilizzato anche per individuare eventi di altra natura, come quelli sismici. Il team sta lavorando per implementare l'algoritmo nel Global Differential GPS System al Jet Propulsion Laboratory, che fornirà l'accesso in tempo reale ai dati da circa 230 stazioni satellitari in tutto il mondo, aumentando l'affidabilità del sistema stesso.